Ciao, sono Frank Sajut e sono un nuovo giocatore del Pordenone. Sono innanzitutto molto contento di essere qua perché parlando appunto col mio procuratore e poi col direttore ho da subito avuto proprio la sensazione che si possa fare una grande stagione qua. Sono contento soprattutto perché da subito la società ha dimostrato nei miei confronti di aver molta fiducia e per i ragazzi giovani è una cosa fondamentale perché penso ti permetta di rendere al meglio. Di conseguenza non vedo l'ora di iniziare, sono molto motivato e ho voglia di mettermi in gioco. Sono un attaccante con una buona struttura fisica a cui piace difendere la palla per far salire la squadra e attaccare gli spazi per allungare e mettere in difficoltà le difese. Ho una grande dedizione e un grande spirito di sacrificio e quindi sono sempre pronto a dare il 110% per i miei compagni e per la società che mi ha dato così tanta fiducia. L'anno scorso è stato il primo anno in cui ho avuto la possibilità di giocare tanto, di crescere e di mettermi alla prova in un palcoscenico importante. Però sono convinto di poter dare tanto quest'anno perché l'anno scorso mi ha servito molto per crescere, per lavorare sul dettaglio. Arrivi in prestito dal Milan in cui sei riusciuto da quando eri proprio bambino, lo stesso percorso o comunque simile di Pobega. Mi ha parlato molto bene dell'ambiente di Pordenone e sicuramente lui è stato un incentivo anche nella mia scelta. Nonostante comunque fossi già molto convinto, lui ha saputo schiarirmi totalmente le idee. E questo perché mi ha raccontato di un ambiente che in fin dei conti è molto simile a quello di Cittadella, nel senso che è un ambiente molto familiare, nel quale tutti si danno una mano per cercare di raggiungere l'obiettivo. È abbastanza semplice, basta dividerlo in due sillabe, sarebbe ZA-JUT, quindi letto correttamente è ZA-JUT. ZA-JUT